Ciao, in questa lezione ti mostrerò come controllare il robot mostrando diversi colori al sensore con questa bacchetta. Resta fino in fondo perché vedremo anche come migliorare l'interfaccia uomo-macchina aggiungendo suoni e immagini sul display. Il professor Mattoncini! Ancora una volta per questa lezione utilizzeremo la base motrice Spike Prime, le cui istruzioni sono incluse nell'app Spike Prime oppure le trovate sul sito legoeducation.com. Una volta assemblata aggiungeremo il sensore di colore rivolto verso l'alto. Vediamo come. E ora costruiamo la bacchetta del potere! Ecco cosa vorrei ottenere. Ve lo descrivo in linguaggio naturale, cioè in pseudocodice. Quando il sensore vede magenta il robot andrà dritto per un po'. Quando il sensore vede verde girerà a destra di un quarto di giro. Quando il sensore vede blu girerà a sinistra di un quarto di giro. Vediamo come si fa. Cominciamo un nuovo progetto. Blocchi parole. Crea. Connetto il mattoncino come al solito. Diablo tutte. Subscribe! Utilizzeremo il sensore di colore in modalità colore. Magenta, blu, verde, giallo. Per reagire ai vari colori utilizzerò altri blocchi cappello simili a questo blocco all'avvio del programma. I blocchi cappello si trovano nella tavolozza eventi. E in particolare il blocco che mi interessa è questo qui. Quando il sensore di colore è connesso alla porta B vede un colore magenta. Prima di impostare come il robot reagirà agli eventi dobbiamo configurare correttamente i motori. Altrimenti il mattoncino non sa quali sono i motori per spostarsi. E cambiamo la velocità di movimento sul 50%. Facciamo 20. Andiamo piano. Perché lavorerò sul tavolo. Adesso vogliamo che quando il sensore di colore vede magenta il robot si sposti dritto per mezza rotazione. Quindi potrei prendere questo. Ma prenderò questo per utilizzare il parametro in tre modi diversi. Vediamo come. Allora intanto posso andare avanti per mezza rotazione. Non voglio fare tanta strada. Farò piccoli passi. Adesso sempre per il solito discorso. Sono un pigro. Duplico. E creo un altro evento. Quando vedo verde. Cambierò questo parametro. Mi sposterò verso destra. Girerò sul posto. Verso destra. Quindi in senso orario. Per mezza rotazione. Cioè do un quarto di giro. Destro. Duplico di nuovo. Quando vedrò il colore blu. Mi sposterò verso sinistra. Cioè ruoterò sul posto in senso anti orario. Per mezza rotazione. Proviamolo. E se volessi che il robot si muova finché non dimostro il colore giallo. Forse avete già intuito come faremo. Intanto mi duplico questo blocco cappello. Per avere anche la reazione al giallo. E ora sostituirò questi blocchi in movimento. Tolgo di mezzo. Qui avvierò il movimento in avanti. Qui avvierò il movimento verso sinistra. Meno cento. Qui duplico. Avvierò il movimento verso destra. Cento. Quando il colore è giallo. Arresterò il movimento. E ora proviamolo. Non c'è malaccio. Ma voglio dirti di più. Una parte non trascurabile della programmazione di un robot è l'interazione con l'utente. L'interfaccia utente. User Interface. UI. O interfaccia uomo-macchina in questo caso specifico. Human Machine Interface. HMI. E la cosiddetta esperienza dell'utente nell'interazione con il robot. User Experience. UX. In questo caso possiamo migliorare la nostra interazione con il robot aggiungendo suoni e immagini sullo schermo. Per avere un riscontro immediato del fatto che il robot abbia capito il comando che gli abbiamo impartito. Sarà come aggiungere qualche spezia a un piatto già buono per renderlo ancora più appetitoso. Mettiamoci al lavoro. Possiamo aggiungere dei suoni per capire se il robot ha capito. Quindi per avere un feedback dal robot. Quindi aggiungo tutti i blocchi suono e poi vado a modificare le note. Così avremo un'indicazione acustica del tipo di comando che il robot ha sentito. 98. 98. 91. 84. Per un do. Proviamolo. Adesso miglioriamo ulteriormente l'interfaccia utente. Adesso voglio aggiungere delle immagini sullo schermo del mattoncino programmabile. Quindi vado nella tavolozza luce e scelgo il blocco attiva. E adesso andiamo a personalizzare le immagini sullo schermo cliccando su questo menu a tendina. Io voglio svuotare lo schermo quindi prima di tutto cliccherò qui per spengere tutto e poi disegnerò a piena potenza. Qui vedete potete regolare l'intensità della luce. Quali led voglio accendere quindi io voglio disegnare una bella freccia. E una è fatta. Duplico. Ne creo un altro qua. In questo caso voglio mostrare un segnale che mi indichi lo stop. Quindi disegnerò un quadrato. Qua al centro dello schermo. In caso di destra e sinistra disegnerò delle frecce. Quindi di nuovo pulisco lo schermo e a massima luminosità disegnerò una freccia. Che va a destra. Duplico. Incollo qua sotto. Svuoto tutto. E disegno una freccia che va a sinistra. Ecco fatto. Ecco qua. Questo è il programma intero. Notevolmente meglio. E ora un extra. Adesso vogliamo che il robot parta quando gli mostro il magenta. E si fermi di nuovo quando gli mostro il magenta. Cominciamo dall'inizio passo passo. Intanto imposto i motori come al solito. Imposto la velocità di movimento come al solito. Però la abbasso al 20%. Io voglio che il robot parta quando vede il colore magenta. Non userò più i blocchi cappello perché voglio controllare il flusso del programma. Controllare il flusso del programma mi fa venire in mente che devo andare a cercare un blocco qui nel controllo di flusso. E infatti voglio aspettare fino a quando il sensore non vede magenta. Quindi vado nella scheda sensori e trovo un blocco dagli estremi appunto. Un blocco esagonale. Che incastrerò perfettamente qua. Questo è un blocco reporter che restituisce un valore logico. E va a braccetto appunto con il blocco attendi fino a quando. E tutto insieme si legge. Attendi fino a quando il sensore sulla porta B legge il colore magenta. Bene. Quando questo accade cosa voglio fare? Voglio andare a dritto. Quindi prenderò un blocco movimento. Avvia movimento dritto. Come prima mi piacerebbe che il robot mi comunicasse che ha capito il comando. E quindi riprodurrò un suono qua. Come al solito voglio una nota piuttosto acuta. 84. Per 0,1 secondi. Non voglio che duri troppo. Voglio che il robot si sposti fino a quando. E quindi di nuovo controllo. Attendi fino a quando. Non vede di nuovo il colore magenta. Perdonatemi se io duplico ma la pigrizia è quella che è. A questo punto voglio che dalla scheda movimento il robot si fermi. Come lo leggo al programma. Aspetta che veda magenta. Parti. Riproduci un suono. Poi quando rivedi magenta arresta il movimento. Dopodiché riproduco di nuovo un suono per capire che il robot ha capito che deve fermarsi. Un po' più basso. Sempre per 0,1 secondi. Ovviamente questo voglio che venga ripetuto all'infinito. Quindi di nuovo scheda. Controllo. Ciclo. Per sempre. Vedete se lo trascino qui. Lui capisce deve abbracciare tutta la mia sequenza. E la collego qua. Adesso proviamolo. Che è successo di strano secondo te? Te lo spiego subito. Il sensore è così veloce nel leggere i colori che vede di nuovo la bacchetta prima che tu sia riuscito a toglierla. Quindi il programma fa partire il robot ma lo fa fermare istantaneamente subito dopo causando questo comportamento brutto. Per risolvere il problema potrei aspettare prima di vedere il magenta che il sensore non veda nessun colore. Questo mi costringerà ad alzare la bacchetta e riabbassarla per poter attivare i due comportamenti. Quindi di nuovo vado nella scheda controllo attendi fino a quando e qui sopra aggiungo e anche qui, cioè prima di vedere il magenta, aspetto che il sensore non veda nessun colore. Ecco fatto. In questa maniera io evito questo comportamento a singhiozzi. Vediamo se ho risolto. Meraviglioso. Che lezione ricca. Se ti è piaciuta ti tilla il tasto mi piace. Non perderti il prossimo video dove modificheremo il robot per permettergli di trovare oggetti colorati mentre si sposta e portarli via con sé. Tecnica utilissima per le gare di robotica. Resta giovane, fino alla prossima volta gioca a modino. Ciao. Ciao.